... Benvenuti a Fuori di Test! Oggi giocheremo a Mosca cieca col camion, ovviamente Ma prima facciamo qualche passo indietro Viaggiando col camion a bassa velocità in ambito urbano o manovrando all'interno dei siti industriali si è sempre in balia dei famigerati angoli ciechi Così si finisce per non vedere il ciclista a fianco dell'autocarro oppure persone che attraversano rischiando di fare male seriamente a qualcuno per non parlare di altri veicoli accostati o ancora di quel muretto basso praticamente invisibili Ci vorrebbero mille occhi e magari un grande fratello orwelliano che ci guidi da lassù Senza bisogno di alzarsi in volo o scomodare il padre eterno oggi è possibile avere sotto controllo tutto l'ambiente intorno al veicolo Grazie a Brigade Becai 360 Select Un sofisticato sistema elettronico di videocontrollo perimetrale offerto in un kit di facile installazione alimentabile a 12 o 24 volt Scelto dagli specialisti di Farid Industrie per il proprio Vector un innovativo compattatore a carico posteriore è composto da 4 nanotelecamere impermeabili con obiettivo grandangolare da piazzare ognuna a metà di ciascun lato del veicolo capace di coprire una visuale di ben 185 gradi in orizzontale e 142 in verticale una centralina di controllo e un monitor a led dotato di schermo antiriflesso colori da 7 pollici il monitor da staffare in plancia ha la regolazione automatica della luminosità e resiste vibrazioni meccaniche di addirittura 10G in tempo reale visualizza su una porzione dello schermo sempre la vista posteriore e le singole viste laterali attivate invece dai relativi eventi ad esempio l'inserimento delle frecce sulla restante parte o sullo schermo intero un'immagine dall'alto impianta del veicolo e dello spazio circostante quasi avessimo un satellite spia sopra di noi volendo potete collegarci anche il registratore digitale mobile opzionale e memorizzare così sul suo hard disk le immagini relative a quasi un mese di lavoro ora possiamo giocare a mosca cieca e se non ci credete provatelo voi e se non ci credete provatelo a chi c'è la sua Grazie a tutti.